ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo un infermiere durante il suo turno di notte nota qualcosa di strano in un corridoio dell'ospedale non sapendo cosa fosse prendere il suo telefono e comincia a registrare tutto ciò che succede ciò che riprende è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato grazie a tutti in una foresta in indonesia alcuni esploratori trovano una grotta avvolta nella vegetazione curiosi decidono di entrare dentro la grotta ma non fanno in tempo ad entrare che si presentano davanti a loro delle strane creature dall'aspetto bizzarro il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma non esiste questo filmato mostra un uomo su un albero mentre viene attaccato da due strani individui in un bosco in piena notte non credo che ci sia nulla di paranormale in questo filmato anche se in una situazione del genere chiunque di noi avrebbe paura comunque questo è ciò che è stato filmato il prossimo filmato è stato ripreso da un uomo mentre era in viaggio e attraversava questo tunnel durante il tragitto la telecamera cattura qualcosa di strano che non dovrebbe essere lì il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti Il prossimo video mostra questa ripresa fatta da questo ragazzo che riprende di notte in mezzo ad un prato una strana creatura completamente nera. Il ragazzo sembra essere molto confuso, non riesce a comprendere se quello che vede è un animale oppure una creatura venuta da un'altra dimensione. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Almeno io. Almeno io. Vicino ad un parcheggio, dall'altro lato della strada, una strana creatura viene ripresa da alcuni ragazzi che passavano di lì per caso. L'essere sembra avere delle sembianze umane, anche se molto più ridotte. Avvicinando le immagini sembra che quell'essere stia aspettando qualcosa o qualcuno. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!